Ben ritrovati a tutti da Stefania Cattaneo di Trevi Meteo. Nella nuova settimana le condizioni meteo saranno generalmente migliori rispetto a quella appena trascorsa, tuttavia l'alta pressione rimarrà sbilanciata sull'Europa centrale. Questo quindi farà sì che avremmo ancora a che fare con qualche nota instabile, quindi attendiamo locali rovesci o temporali sui rilievi alpini ed appenninici ma con occasionale sconfinamento anche alle pianure specialmente quelle del centro nord dove comunque avremo anche spazi ampi assolati. In tutto questo come andranno le temperature saranno in linea con le medie del periodo quindi un clima diurno mite e gradevole generalmente compreso tra 23 e 27 gradi salvo delle locali eccezioni. Restate allora aggiornati con noi sul sito e l'app di Trevi Meteo.